Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per domenica 4 febbraio. Anticicolone africano ancora presente sull'Italia, ma sarà il penultimo giorno in cui sarà presente sulla penisola e poi sarà a lungo assente per fortuna. Quindi domenica bel tempo ovviamente, non ci saranno piogge, non ci saranno nevicate, ci saranno le solite nebbie dense sull'este della Lombardia, Emilia, Romagna e interno della Toscana. Temperature ancora al di sopra della media, massime sotto 10 gradi solo su Triveneto, Este, Lombardia, Emilia e Romagna. Massime intorno a 13-15 gradi sulla regione di nord-ovest per venti di fenne, più 13-15 gradi anche sulla regione tireniche, 15-18 gradi sul resto dell'Italia.